... ... ... Keith, dissi, perché non lavori con me? Non sono mai stato a Chicago. Ok, dissi, mi piacerebbe lavorare con te. Lui disse, vieni nel mio studio domani e parliamo di cosa posso fare a Chicago. Keith avrebbe vissuto e lavorato da noi e avremmo dipinto un gigantesco murale insieme agli studenti nel centro di Chicago. Mettemmo insieme circa 500 studenti di 47 diverse scuole che lavorarono una settimana su questo murale. L'opera, originariamente lunga oltre un chilometro e mezzo, è stata frammentata e attualmente una parte è esposta all'aeroporto di Midway a Chicago. Penso che sia grande, penso che sia fantastico. Mi piace vederlo quando cammino, ha un messaggio positivo. Basta bande. E poi dice, aiutiami senza tetto e cose del genere. È bellissimo. Mi ricordo che finito il murale c'è stata una festa al metrò. Avevo solo 16 anni e volevo andarci. Ma era un club per gli Over 21. Io volevo tanto andarci. Così Keith alla fine mi ha preso e mi ha portato su. Così sono stato alla festa per il resto della notte con lui. Ed è stata una delle più belle cose che mi poteva succedere. Ricordo che continuavo a dire che voleva scoprire che disco era. Così andavamo dal DJ ogni 8-10 minuti. La musica era molto importante per lui. Penso fosse una delle cose in cui si identificava di più. Forse perché la musica è un messaggio e a volte dà delle risposte. Io insegnavo al liceo Wells Academy e gli ho chiesto se poteva donarci un progetto per lo sfondo dell'auditorium per un murale nella nostra scuola. E lui ha detto di sì. Così gli abbiamo mandato uno schizzo di questo muro e lui ha disegnato questo progetto che noi abbiamo trasposto sul muro dell'auditorium. onto the wall of the auditorium. e lui ha affrontato un murale in un hospital local che era chiamato il russo-presbyterio e io vengo a il hospital e vedo l'operazione dove sto a fare e ho trovo che sono attrazi che anche due strani sono poche sia piccigli Mi fa felice perché tutti sorridono. È infantile, fresco, allegro. Cosa vuole dire? Penso che voglia rendere le persone più felici, tirarle su. Cosa che serve quando sei in ospedale. A me fa sentire più felice. Che mi fa sentire più felice. Keith ha lavorato molto in fretta. Ha fatto il murale in un'ora e mezza e poi ha chiesto se avevamo altre pareti vuote. E così ha fatto il murale bianco e nero con il cuore rosso nell'atrio. Mi piace, mi piace molto. Penso che sia veramente bello. Penso che sia adatto a persone che hanno a che fare con la gente e circonda il cuore che è una specie di punto centrale. Mi piace tantissimo. Così, in una settimana sola, ha dipinto un murale lungo tre isolati. Ha fatto due grandi murales al Rush Presbyterian e ha donato un murale alla Welles Academy. L'energia di quell'uomo era contagiosa. È stata una bellissima esperienza lavorare e conoscere Keith Haring. Grazie. 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 Grazie.